Il primo campionato ad aver archiviato il girone di andata è l'Under 18 femminile. Le immagini dalla palestra Ormond ci portano al derby tra le due squadre della nuova Lega Pallavolo Sanremo, sfida vinta dal club 64 per 3-0 sulla carrozzeria Funivia. Questi gli altri risultati della prima di ritorno. Maurina Volley, Picco de Gallo Sanremo 3-1, Golfo Diano, Gabbiano Andorra 3-0, posticipato il derby tra le due squadre di Ventimiglia, Salis e Miramare. In classifica comanda punteggio pieno il club 64 con 24 punti, seguito da Diano a 21. Passiamo ai campionati regionali. Settima giornata di C femminile, sconfitta a Casalinga per le grafiche Amadeo per 3-0 opposte all'Albissola. Sertecco Genova comanda 16 punti, Albissola sale a 15, le grafiche restano a 14. Settima giornata di D femminile, la nuova Lega Pallavolo esce sconfitta per 3-0 dal campo del Sestri, così pure la pizzeria Solentiname per 3-1 dal campo dell'Oano. La Maurina Strescino invece con due risultati positivi, 3-1 sabato al Cogoletto e nell'anticipo di mercoledì per 3-0 nel derby con Solentiname, raggiunge la vetta della classifica a quota 16 punti, insieme all'Oano. Loano che domani sarà ospite proprio della nuova Lega Pallavolo terza a 13 punti, appuntamento, palestra Ormon ore 18. Quinta giornata di C maschile, sconfitta al tie-break per le grafiche Amadeo con Avis Spezia e secondo posto in classifica con 10 punti, a due lunghezze dello Spedia Volley. Quinta giornata per la D maschile, il Primavera Imperia consolida il primo posto a quota 12, superando il Loano per 3-0. Rinviate le partite previste per Fincom Sanremo e Golfo Diano Alassio. Con le immagini, sempre dalla palestra Ormon, passiamo all'Under 16 femminile. Pezzana Sanremo, che vedete in maglia giallo-nera, è stata superata per 3-0 dal Gabbiano Albenga. Vittorie per Carrozzeria Funivia 3-1 su Salis 20 Miglia, Volley Team Armataggia 3-0 su Nuova San Camillo Imperia, rinviata Golfo Diana Maurina. In classifica, Maurina Diano Funivia quota 6. Under 14 femminile, vittorie per Maurina 3-0 su Scuola di Palavolo Mazzucchelli Silver, Armataggia 3-1 su Mediterranea 20 Miglia e Pizzeria Elbilli 3-0 su Sanremo Sport. Elbilli con 12 punti in vetta alla classifica, seguita da Armataggia e Nuova San Camillo con 9. Passiamo ai campionati maschili. Under 17, Cento Petroli Sanremo, Sanremo Volley 3-1, Valsteria Diano, Sabazia 3-1, Albissola Armataggia 3-0, Volley Team Finale Primavera 3-0, Albissola al comando con 9. Under 15, Sabazia Sanitas Sanremo 3-1, Albissola Golfo Diana e Alassio 3-0, Armataggia Finale 3-1, al comando Albissola e Taggia con 6 punti, due anticipi della prima giornata di Under 14, Volley Team Finale Primavera Blu 3-0, Sanremo Volley, Volley Crosia 3-0. Concludo segnalando che lunedì 8 dicembre si svolgerà la seconda fase della Coppa Liguria Femminile. Le grafiche Amadeo Sanremo ospiteranno sul campo di Villa Ormond l'Admo Lavagna Volley alle ore 20. Con il Volley tutto, vi do appuntamento a venerdì prossimo.